Per il colore delle regioni, da arancione a giallo, ma di riaprire le palestre ancora non se ne parla. Nel nuovo DPCM del governo non c'è alcun cenno e ora i gestori manifestano grande disapprovazione e sulla base di sentenze recenti si preparano a dare batteria per riconquistare i diritti inviolabili alla salute, al lavoro e alla libertà personale. C'è chi si è rivolto al CONI, chi ad altre felazioni visto che singolarmente il rischio sarebbe troppo alto. Intanto i costi lievitano, il lavoro manca e le persone rischiano di vedere fumare tanti sacrifici fatti per dimagrire, mantenersi in buona salute, fisica e soprattutto mentale e in questo momento gestire lo stress. Perché bisogna ricordarlo, in palestra ci si fa solo sì per fare bodybuilding ma anche uno stile di vita vero e proprio ora più che mai con la speranza di tenere lontano le malattie. Qualche spiffero sulle possibili decisioni del governo è arrivato nei giorni scorsi. Le prime attività che potrebbero ripartire almeno in zona gialla per consentire gli allenamenti individuali e nella zona bianca la nuova quarta fascia più libera che si fa cifra potrebbe entrare in vigore al varo dal nuovo DPCM del prossimo 16 gennaio. Un'idea potrebbe essere quella di riaprire le palestre entro gennaio nelle zone gialle secondo protocolli ad hoc per garantire la ripresa delle elezioni individuali in totale sicurezza. Stando alle indiscrezioni che arrivano da più parti è probabile che la riapertura di palestre e piscine così come musei, teatri, cinema e sale da concerto sarà concesso solo e soltanto nella zona bianca. La quarta ipotetica fascia che verrà introdotta dal nuovo DPCM nei territori con l'RT sotto di 0,50 e una bassissima circolazione del virus.